È un'iniziativa che ci rende tutti orgogliosi, è un'iniziativa che fa collaborare associazioni, enti e tutti i cittadini intorno a un unico obiettivo. Siamo veramente orgogliosi ogni anno di ospitare questa iniziativa e questo progetto. L'amministrazione crede molto anche nella cultura e nello spettacolo. Durante l'anno non è l'unica iniziativa che sponsorizziamo e aiutiamo a crescere. Spesso abbiamo organizzato visite culturali a Bergamo e anche in tanti altri luoghi e crediamo molto nel valore dello spettacolo e della cultura come elemento di crescita per tutta la comunità. Vi aspettiamo a Costa di Mezzate per le Magie al Borgo, un momento davvero da gustarsi con grandi e piccoli, un evento gratuito e vi aspettiamo.